Sembra incredibile ma una 74enne deve la sua vita al Covid perché con i controlli a cui è stata sottoposta durante il suo ricovero è venuto fuori che aveva ben due tumore. È stata operata dal direttore della chirurgia, il dottor De Prizio. Senta dottore, com'è operare comunque una signora in situazione da Covid? È molto più faticoso perché dobbiamo metterci una serie di protezioni che ci fanno sudare, ci rendono i movimenti difficili, tre paia di guanti, due tute, doppi occhiali e soprattutto l'intervento è durato sei ore quindi stare sotto la cappa di queste cose non è facile. Però insomma ce l'abbiamo fatta. Grazie anche al gruppo delle malattie infettive, al dottor Tacconi che fin dall'inizio quando lei era ricoverata lì per la sua malattia ha intuito che c'era qualcosa che non tornava e poi è stato complesso scegliere il momento dell'intervento perché operarla subito forse si poteva rischiare qualcosa per il Covid, operarla troppo tardi con un tumore che si era già perforato e aveva già una peritonite poteva costarle la vita. Quindi insomma con Tacconi abbiamo trovato un timing giusto e credo che insomma ce l'abbiamo fatta collaborando a trovare la soluzione per la signora. Noi si è fatto un grosso intervento, la signora per ora, dico sempre per ora perché ce lo racconterà quando è a casa che è andato tutto bene però siamo scaramanti, ci sta andando bene e insomma vediamo anche poi che viene fuori dall'esame istologico se dovrà fare altre cure. Però insomma io sono contento perché attualmente di tutte queste cose che abbiamo tolto, colon, stomaco, fegato, utero, ovaio, insomma è pulita. Grazie 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 Grazie